Il sindaco di Verona Federico Sboarina e quello di Venezia Luigi Brugnaro si sono incontrati a Fiera Agricola per discutere di future sinergie sui temi del turismo e dell'enogastronomia. Un incontro informale, in realtà ci siamo conosciuti qualche settimana fa, abbiamo cominciato a sviluppare una serie di ragionamenti anche e soprattutto sulla base del presupposto che Verona e Venezia sono i due grandi capitali della nostra regione ma che va anche oltre perché per vocazione storica sia Verona che Venezia sono aperte al mondo e quindi trovare delle sinergie in questa prospettiva dal punto di vista culturale, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista economico di quelle che sono appunto i due capitali. Pisaldi, uno est e uno ovest delle nostre regioni. Mi sembrava doveroso intanto salutare il sindaco di Verona, una città che amiamo, una città con cui assieme a Venezia può dare tanto per il Veneto e per lo sviluppo di tutta l'Italia. Penso che le occasioni di incontro degli imprenditori, delle aziende, in questo caso le aziende agricole ma anche le aziende che creano nella tecnologia, nello sviluppo economico e tecnico dell'agricoltura possono essere utilissime per poi immaginare quello che è il futuro dei nostri bambini, dei nostri figli. Un'alleanza che vogliamo fare con Verona nel tempo, lo costruiremo passo passo in silenzio senza fare tanti proclami. Il sindaco è carico su questo, noi siamo molto contenti. Credo siano segnali giustamente di rispetto, in questo caso verso Verona e tutta la sua comunità economica e per quello che Verona rappresenta, insomma per tutto il Veneto.